Poche persone hanno vissuto una vita così di alti e bassi come Mickey Rourke che inizia facendo il pugile, si infortuna, deve smettere, fa l'attore, diventa una star, crolla come attore, viene abbandonato da Hollywood, torna a fare il pugile e quando smette per la seconda volta di combattere ha i suoi momenti migliori nella sua ultima parte della carriera. Una storia veramente incredibile di lotte e battaglie forse non ancora finite. Mickey Rourke